Questa è la 264esima fiera dell'aglio di Vesalico, è una fiera dove partecipano tutti i produttori dell'aglio di Vesalico, ma degli 11 comuni dell'Alta Valle Arrocia. Quest'anno abbiamo ospitato il primo campionato nazionale di salse al mortaio con l'aglio di Vesalico. Il primo campionato nazionale di salse al mortaio con l'aglio di Vesalico. Questa specialità di questa Alta Valle Arrocia che ha radunato qui per la fiera tanti appassionati di cucina e anche professionisti. Il campionato è stato l'elemento portante di questa 264esima fiera di Vesalico dell'aglio, una specialità che grazie anche a questa iniziativa, a questo evento promosso da Regione Liguria, Agenzia in Liguria, ha potuto superare anche i confini regionali. Questi sono i tre finalisti. Sono Giorgia e siamo qui al primo campionato nazionale di salse al mortaio con l'aglio di Vesalico. Ho vinto il primo premio, mi sono divertita tantissimo, soprattutto a cucinare una salsa al mortaio con l'aglio di Vesalico che sono tipici della nostra tradizione. Quindi un grande successo e adesso partiranno le selezioni per il prossimo campionato che si svolgerà sempre il 2 luglio 2025 qui a Vesalico.